Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa. Vediamo se possiamo mettere la luce un po' meglio. Questa è la rassegna stampa di oggi, venerdì 19 maggio. Quali sono i temi fondamentali? Intanto il tema fondamentale è quello che è successo alla stazione di Milano. Ieri c'è stato anche un problema a Times Square. Tra l'altro a Times Square questa macchina ha ucciso una persona e ne ha ferite 20. Ma noi siamo più vicini a Milano. Cosa è successo? Che hanno fermato un uomo di origine tunisina, ma in realtà la madre italiana, quindi italo-tunisino, l'hanno fermato alla stazione con molti precedenti e ha coltellato i due uomini delle forze dell'ordine che lo stavano controllando. Uno della Polfer e l'altro della pattuglia di strade sicure. Guardate, quello che succede nelle stazioni, quella centrale di Roma, quella centrale di Milano, quella Termine a Roma, l'abbiamo testimoniato a Matrix e quando è successo a noi neanche una breve sul giornale. Ovviamente grazie al cielo la nostra giornalista non è stata ferita, ma ci è andato poco perché se non ci fosse stato un tassista lo sarebbe stata ferita. In questo caso le due persone forze dell'ordine sono state ferite. Allora, nelle stazioni, che hanno sempre fatto schifo, è inutile che pensiamo che oggi siano schifose più di ieri, ma certo qualcosa è emerso. E cioè che cosa è emerso? Che nelle stazioni è aumentata la massa di persone che ci vive perché noi le persone le salviamo in mare e però non ci preoccupiamo minimamente di che cosa possono succedere a terra. Ma la cosa che mi ha fatto impressione è la cronaca e l'atteggiamento che hanno i giornalisti nei confronti di questa aggressione. Perché i giornalisti sarebbero tutti quanti alla marcia contro antirazzista di domani. Ma che cacchio serve la marcia antirazzista a Milano? Voi dovete fare la marcia a favore di quei poveracci che sopportano nella stazione centrale quella feccia che tutti i giorni ti rompe le scatole, la marcia antirazzista. Cioè noi perdiamo tempo a fare le marce antirazziste, a rompere le balle il sabato pomeriggio sulle marce antirazziste. Ma andate a giocare, andate al parco, le marce antirazziste. Le marce antirazziste fanno sì che sui nostri giornali domani avremo pagine e pagine su questa inutile marcia antirazzista in cui il sindaco parteciperà alla marcia antirazzista ed è il motivo per il quale oggi nel Corriere della Sera, sul Corriere della Sera, il giornale primo che io leggo tutte le mattine, sapete che c'è scritto nella cronaca del giornalista che parla del ferimento ieri di due persone delle forze dell'ordine, la destra si è scatenata. Ha fatto le dichiarazioni dicendo che la stazione centrale non era sicura, si è scatenata. Si è scatenata il giornalista che andrà domani alla marcia antirazzista e dirà che bella la marcia antirazzista contro il razzismo nella città. Ma vivete nella centrale, cari giornalisti, invece di andare col taxi pagato alle redazioni. Prendete la metropolitana, andate a vedere che cazzo succede nelle stazioni centrale. Siate una delle ragazze del Corriere della Sera, così come una delle ragazze di Matrix. Vada a vedere alle 10 e mezza, alle 11, che cosa sono le stazioni centrali e la smetta di pensare alle marce antirazziste. Pensi alle marce sulla stazione centrale, perché sia possibile per una donna e per un uomo di frequentarle. Io penso che ci siano estremi populismi in questo paese. Cioè ovviamente l'estrema populismo che dice che gli immigrati stanno distruggendo il paese. Non lo stanno distruggendo, lo stanno rovinando, questo sì. E dall'altra parte quelli che pensano che la soluzione si trovi attraverso le marce antirazziste. E i giornalisti che cosa dicono sulle marce antirazziste? Che la destra si scatena, la Gelmini si scatena. Ma che si scatena? Fa bene a Gelmini dire quello che dice. Nel frattempo la politica si occupa di intercettazione di legge elettorale. Sulla legge elettorale Forza Italia e il Movimento 5 Stelle decidono di farla passare alla camera, la votazione di farla rimandare di una settimana. Complimenti. Rimandiamo di una settimana, abbiamo ottenuto un bel risultato politico. Orlando in un'intervista a Repubblica dice Abusi nell'intercettazione, quella telefonata tra Renzi e il padre non doveva uscire. Bene, gli risponde Travaglio oggi sul fatto. Dice, scusate, ma il presidente del Consiglio Gentiloni e compagnia cantante, dove erano quando noi pubblicammo e Repubblica pubblicò la intercettazione tra D'Addario, vi ricordate, la D'Addario e il Cavaliere? D'Addario Berlusconi ha un rapporto sessuale con questa imbarazzante D'Addario. E tutte le intercettazioni delle telefonate che non avevano alcun rilievo penale furono pubblicate da Repubblica. Repubblica oggi ovviamente mantiene la stessa posizione, ma la sinistra all'epoca non aveva questa posizione. Gentiloni, ricorda Travaglio, disse che quelle intercettazioni erano fondamentali per capire i rapporti tra Berlusconi e da D'Addario. E allora, sapete che c'è di nuovo, è anche interessante sentire le telefonate tra Gentiloni e le sue fidanzate, se ce l'ha, e soprattutto tra Renzi e suo padre. Ovviamente mi fa schifo sia l'una sia l'altra, ma c'è ragione Travaglio. Travaglio dice, scusate, dove eravate fino a ieri? Io avrei preferito che non fossero pubblicate nelle une e nelle altre. Polemica su questo anche tra Napolitano e Orfini, ma di questo ve ne parlerò un'altra volta, anzi non ve ne parlo proprio perché chi se ne frega. Travaglio ricorda anche che Lillo, quello che ha fatto lo scoop, si fa per dire, della telefonata tra il padre di Renzi e il figlio di Renzi, è lo stesso che tirò fuori le carte della Raggi mentre veniva interrogata. E l'IPD dove era? Era contenta delle polizze, fece un sacco di battute sulle polizze. Vabbè, bello il Sole 24 Ore, che purtroppo, come spesso avviene, non ha il coraggio di andare fino in fondo, perché quattro anni fa fu fatto il Tribunale delle Imprese, che doveva aiutare le imprese a risolvere i suoi problemi, per non andare sulla giustizia civile. 970 giorni per andare a sentenza, 970 giorni, va bene? Più 9.900, più 72% le cause pendenti presso il Tribunale delle Imprese. Una minchiata a questo Tribunale delle Imprese, così come è fatto. Se il Sole 24 Ore avesse un po' di palle, magari questa cosa, invece che fare i commenti in punta di penta, forse proprio perché il suo core business, cari amici del Sole, battereste su questa fantastica intuizione che avete avuto, con degli editori listi, uno, due, tre giorni, direttore Gentili, questa è una cosa gravissima, e riguarda la tua constituency, 970 giorni, è vero che vale anche per noi piccole partite IVA, ma per le imprese vuol dire il fallimento di un'impresa, non sto a insegnare a te quello che tu conosci molto meglio di me, intendo al direttore del Sole 24 Ore. La Svizzera finanzia Mous, la grande ONG della famiglia Catambrone, io la trovo stupenda, Giuseppe Marino giustamente ci apre il giornale, fa il fondo sul giornale, perché l'idea è che la Svizzera, che non accenta un migrante, che ti fanno un mazzo così, a me mi fermano quando passo qua per andare a sciare, se porto più di un chilo di carne a testa, perché in Svizzera ti controllano quanta carne porti, perché costa dieci volte di più, se ti porti la carne te la tolgono dai pacchetti, te la pesano, giuro, giuro, si può portare una bottiglia di vino, ti pesano tutto, ti rompono i coglioni su tutto, controllano anche il minimo dettaglio, poi dopo il Ministero degli Esteri svizzero finanzia un ONG che batte bandiera maltese, che porta gli emigranti in Italia e che l'arrestano perché certo che Svizzera non ci vanno, io la trovo straordinaria, cioè bene la Svizzera a essere dura con l'emigrazione, però insomma andatevi a finanziare gli affari, andate a finanziare l'ONG, andate a finanziare la sicurezza alla stazione centrale di Milano, mi sembrerebbe più sano, bello oggi Feltri e Martelli perché le due celebrazioni più ipocrite del mondo sono quelle del commissario Calabrese e quelle di Falcone, Martelli sul giorno racconta come in realtà Falcone era odiato dai suoi colleghi e dalla sinistra, stupendo, due pagine in cui ci racconta bene per filo e per segno perché Martelli fu il ministro che lo portò al Ministero della Giustizia e per questo motivo essendo lui socialista lo odiarono, e Calabresi invece era altrettanto odiato e Feltri come sa far lui da par suo dirce, prima lo ammazzano e poi lo fanno santo. Il re d'Olanda, lo leggo sul Corriere della Sera, guida l'aereoplano, ma questo ci sta, ma sapete che cosa fa? Guida KLM, quello due volte al mese guidava gli aerei di linea di KLM, storia incredibile, soltanto in Olanda il re può guidare l'aereo, anche se nessuno dice ma come funziona? Un re viene pagato, non viene pagato, ci sono i turni, la KLM è un'azienda quotata, può far guidare l'aereo, mi sembra una cosa così incredibile, comunque la storia è divertente. Facebook si becca una multa da 100 milioni dall'antitrust europeo, ma dovete approfondire, sapete perché si la becca? Compra, mi sembra per 20 miliardi, 19 miliardi aere, Whatsapp nel 2014, e perché compra Whatsapp? Per i vostri numeri, i vostri contatti, i vostri numeri di telefono. La Commissione Europea gli dice ma non è che unite insieme i dati di Whatsapp e di Facebook, no, dice Facebook, dopo due anni uniscono i dati di Whatsapp e Facebook, ci ha preso per il culo, ci ha coglionato, ci ha preso per il culo, ci ha coglionato, ha detto una bugia, Zuckerberg dopo due anni ammette di aver detto una bugia, noi gli abbiamo fatto la multa, 100 milioni, sapete che cosa sono per Facebook? Ma dà il senso dell'impotenza europea e il senso della impunità che tanto per 100 milioni che cosa vuoi che gli interessi a Facebook? Ma mi sembra normale, è come Dieselgate, Dieselgate hanno detto una bugia sui software, questi hanno detto una bugia su una cosa molto più importante, e cioè su un comportamento che ha, concludente, che rende Facebook ancora più monopolista, e qua stiamo a fare i trallallà, 100 milioni per loro, sono quelli che stanno guadagnando in questo istante. Vabbè, l'ultima questione riguarda Repubblica che è straordinaria, il Corriere della Sera dice che la destra si scatena, perché ieri si è un po' seccata che accoltellano due persone alla stazione centrale, tra l'altro due forze dell'ordine, quindi si scatena, secondo me si sono scatenati alla stazione centrale, vabbè, ma Repubblica sapete perché si scatena? Lezione di giornalismo, Repubblica, dove tutti i giornalisti vogliono andare a lavorare, titolo di Repubblica, Trump sotto accusa, aperte le virgolette, pagato da Putin, Trump sotto accusa, aperte le virgolette, pagato da Putin, poi legge il pezzo sotto, spunta la frase di un deputato repubblicano durante la campagna elettorale, per poi la retromarcia, si trattava di uno scherzo, cioè un deputato durante la, non campagna elettorale, durante la campagna delle primarie, si scopre nel pezzo, dice che Putin pagava Trump, che era uno dei tanti insulti che venivano fatti a Trump, come Trump faceva dagli altri, in piena campagna per ottenere la nomination, e poi dice, ho scherzato, era una minchiata, era una stupidaggine, ovviamente il deputato non poteva dire che era una falsità, l'ha messa sullo scherzo, ma ci sta, va benissimo, in campagna elettorale si dice tutto, ma non si può titolare, oggi Repubblica, posto che c'è tutta la questione di Russiagate, come titola, Trump sotto accusa, pagato da Putin, ma vi rendete conto? Questo è il giornalismo italiano, andate a leggervelo, non vi sto raccontando una balla, oggi su Repubblica in apertura di pagina c'è scritto, Trump sotto accusa, pagato da Putin, tra virgolette, leggete il pezzo e si tratta di una vecchia dichiarazione, peraltro smentita, durante la campagna per le primarie, io trovo questo una roba allucinante, allucinante, e poi ci raccontano a noi del giornale che siamo la macchina del fanco, mandate a fare il piacere, ciao!